Ciao, sono Federica Piccona, ho 28 anni e sono un'attrice siciliana. Vivo a Palermo, ma ho appoggio anche sul Roma. La mia agenzia di appartenenza è quella di Powering Lease Management. Io ho intrapreso i miei studi qualche anno fa con l'Accademia di Mario Pupella, dopodiché ho frequentato diversi workshop per il cinema, come quello di Patrizia De Santis, Francesco Scianna e Chiara Agnello. Io penso che l'attore abbia bisogno di allenarsi sempre, un po' come quando andiamo in palestra ad allenare i muscoli, noi abbiamo bisogno di allenare la nostra parte interiore. Credo tantissimo in ciò che faccio, ci metto veramente il cuore e tutta la passione. Sono fia d'arte, quindi non può essere diversamente. Sono alta 1,71 m, sono taglia 38 e sono questa. Ciao!